Eccolo qua. Rocco Papaleo. Ciao ciao a tutti. Vediamo se mi senti? Io ti sento Giovanni. Fantastico fantastico è la prima volta che facciamo un collegamento zoom quindi non è per niente sicuro che funzioni tutto siamo molto felici di averti alla prima alla proiezione di questo film scordato che hai scritto diretto interpretato non lo hai suonato tranne una nota a un certo punto anche se poi ho visto una tua esecuzione in Stormy Weather che è bellissima al pianoforte ma guarda intanto mi sentite? Sì benissimo. Lasciami dire subito che sono molto contento di essere lì al cinema anche se in collegamento al cinema principe che è un cinema che mi evoca ricordi bellissimi perché abbiamo presentato più di una volta i film di Leonardo Pieraccioni lì e insomma in quel in quell'epopea dei film di Leonardo a cui ho avuto la fortuna di partecipare e quindi per me è un ritorno emozionante in quella sala. Sei molto legato a Firenze e alla Toscana perché hai girato tanti film con Leonardo con Giovanni Veronesi con Francesco Nuti sei legato diciamo alla terra Toscana tu? Beh diciamo che la Toscana è stata la mia terra di adozione cinematografica perché la mia storia è cominciata con i laureati di Leonardo e da lì in poi poi ho partecipato a tanti film toscani o comunque di registi toscani in primis Leonardo con cui ho fatto sei film poi con Giovanni Veronesi con cui ne ho fatti in altri quattro cinque e con Paolo Mirzi con cui adesso rinnoviamo il sodalizio con Ferri d'agosto trent'anni dopo insomma la Toscana è terra di cinema per me terra da adozione cinematografica. Quindi intanto il pubblico si è già emozionato a sentire che sarai nel film di Paolo Virzi e questo tuo film tra l'altro tu avevi esordito nel 2011 con Basilicata Cost to Cost che era un meraviglioso esordio e nel quale scoprivi diciamo come attore il talento di un musicista che era Max Gazzè in quel momento. Qui scopri diciamo riveli il talento da attrice di Giorgia che conosci da tanto tempo tra l'altro. Io la conosco da più di trent'anni perché la vidi sbucare sui palcoscenici dei club romani nei primi anni novanta e me ne sono subito invaguito artisticamente. L'ho sempre seguita e poi nel corso di questi trent'anni ci siamo incrociati qualche volta e sempre sentivo che c'era un po' un'energia tra di noi e una stima reciproca che lei poi mi ha confessato che in questi trent'anni ha seguito insomma un po' la mia storia e così a un certo punto ho preso coraggio e le ho proposto questo progetto. Lei aveva già ricevuto delle offerte in passato ma non l'aveva mai accettato. Stavolta invece ha aperto uno spiraglio e mi ci sono infilato e l'ho fatto leggere la sceneggiatura. Lei è piaciuta e ci siamo fatti una promessa di provare di fare un periodo di di training con la promessa di tirarci indietro se la cosa non funzionava. Potevamo farlo sia io che lei e non l'abbiamo fatto siamo andati fino in fondo e diciamo ora non aspetta a me dirlo però sono molto soddisfatto. Ordinariamente naturale Giorgia è anche la presenza forse più luminosa di tutto il film quella che che dà sollievo diciamo quando quando la guardi. Beh perché lei nel film recita proprio il ruolo della della fata posso dire no di quella che innesca il meccanismo del della research no di tornare indietro a cercare di riconnettersi con la propria esistenza cercando di sciogliere quei nodi esistenziali che avevano reso il personaggio che interpreto diciamo così scordato. Esatto hai parlato di research perché è un tuffo nel passato di questo personaggio e quindi un fare i conti con te stesso poi il il film nel suo cuore a questo insomma un personaggio che fa i conti con se stesso. Assolutamente sì diciamo è un po' un archetipo no della della narrazione quello di tornare indietro e e e cercare una risoluzione. In fondo è un po' un è un racconto di formazione e al contrario nel senso che piuttosto che vedere il il protagonista della storia che cresce che attraverso la vita si forma qui è un po' al contrario torna indietro come a rivivere per cercare di adeguarsi insomma di perdonarsi io direi che è un film sul perdono Giovanni sulla necessità di esercitare il perdono eh verso gli altri e verso se stesso. Esatto e è una cosa visto che parli molto di musica nel film la musica poi appare come ritmi come suoni quasi di percussioni di batteria in un modo che che ricorda un po' Birdman di Alejandro Gonzales Signaritu quel film in cui tra l'altro il protagonista Michael Keaton parla con un qualcun altro un po' strano. C'era questa vaga idea quando lo hai pensato? È naturale che nelle proprie proposte nelle proprie creature nei propri racconti l'influenza di quello che ci è piaciuto durante la nostra vita di spettatore no? Tutti abbiamo incamerato suggestioni e e quindi anche se non c'è un riferimento diretto direi che chiaramente quello è uno dei miei film preferiti è chiaro che quell'idea percussiva un po' è ispirata anche a quel magnifico film e l'idea di cominciare con la batteria è proprio un po' una mia idea di per entrare un po' nella nella narrazione perché poi ovviamente si arricchisce di altri strumenti la colonna sonora però mi piace... Poi dovrai cantare anche in un tuo film. Non ho capito scusa Giorgio. Poi dovrai anche suonare e cantare in un tuo film. Io ti ho sentito cantare e suonare più di una volta ma mai in un film. Beh diciamo che ci sarà tempo anche per quello. Intanto ho avuto Giorgia e ho preferito far cantare lei. Molto giustamente. Senti c'è una sorpresa per te. Qui alla mia sinistra tu parlavi degli attori di avere scoperto attori di aver lavorato con bravi attori e non so se vedi nel quadratino c'è un signore con gli occhiali e la barba. Lo vedi? Beh no perché il mio collegamento non è perfetto nel senso che vedo solo il quadratino dove mi vedo io e non è una bella vista sinceramente. Ti faccio una battuta per farti ricordare. Rocco te stasera non sei Rocco. Sei arrivato in ritardo. C'è una faccia che sembra un morto. Hai problemi di donne? Dai Gerry lo sapevo che eri tu. Ci siamo appena visti tra l'altro a Pietrasanta al mio spettacolo e sono molto contento di averti avuto nel film ed è stato anche se ho un attimo per raccontare stavo cercando quel personaggio e casualmente tu mi hai mandato un messaggio di saluti e mi sei venuto in mente che eri perfetto per quel ruolo e così ti ho assunto e sei andato anche oltre le mie aspettative perché è un personaggio che in scrittura era molto più nascosto in sostanza sai quei personaggi un po' che servono un po' così da sponda invece ti sei preso l'attenzione e la ribalta e una delle scene più commoventi del film è tua perché hai un'umanità straordinaria e la regali a questa storia. Io ho partecipato con orgoglio lo sai ero orgoglioso perché io mi peritavo quasi a chiamarti dico ma che faccio lo chiamo non lo chiamo il numero ti ho fatto gli auguri per il tuo compleanno e poi ti ho chiesto scusami ma dove posso mandare il mio materiale per te mi dicesti sì mandalo a questi mail poi ti è scattato qualcosa in testa mi hai chiamato dopo un quarto e mi hai detto no mandalo a me perché prima hai chiesto quanto sei alto e io ti ho detto uno sessantadue sessantatré allora mandalo a me perché cerchiamo un personaggio che assomiglia a te lucano anche se poi dall'accento non si direbbe però voglio io sono paesano tu e come sei tu con un paesano mio scherzo è stata una bella occasione di trovarci e soprattutto al netto della retorica dell'amicizia che si rinnova eccetera è stato perfetto per me averti nel film perché quel personaggio che interpreti è una perla diciamo spero nella collana di perle del film ecco Rocco a proposto di perle perle della basilicata ne ho un'altra al di sorprese alla mia destra guarda se riesce a vedere no io non vedo io non vedi niente allora dovrai sentire buonasera paesano questo è il signor antonio petrocelli esatto il signor antonio petrocelli capito qui che abbiamo il grande attore antonio finalmente ho avuto l'onore di avere in un mio film e come venire a indossare con il suo cinema le persone ci vuole una fatiglia mangi grazie a te che ti sostiene ecco fantastico sono capito che è una lingua musicale il lucano tra l'altro qui in sala c'è un regista lucano che si chiama giovanni brancale che ha fatto un film a pisticci te lo dico lo saluto anche se gli sto voltando le spalle in questo momento e quindi hai portato la lucania in in giro per il mondo perché come dice nel tuo primo film la basilicata esiste un po' come il concetto di dio o non ci credi ma ci crediamo beh ci credo anch'io era un po' una ovviamente una dolce provocazione che veniva da lontano perché mi ricordo tanti anni fa che lavoravo alla tevere expo a roma ero un ragazzo universitario e c'era questa tevere expo dove c'erano tante le regioni esponevano e anche delle aziende in questa sorta di fiera lungo le sponde del tevere e io lavoravo nello stand basilicata c'era scritto basilicata sopra ebbero che esisteva quindi mi chiedevano mi facevano spesso questa domanda ma ma che marca è basilicata e quindi ho mi sono sentito in dovere di di rivelare che che la basilicata esisteva e che era una regione tra l'altro anche molto bella e con i tuoi film la porti poi a ai davanti agli occhi di tutti perché anche questo film appunto Lauria non tutti sapevano insomma cosa cosa fosse anche quello che marca fosse diciamo Lauria prima prima del film è una marca di lucani che fabbrica lucani malinconici diciamo perché il tuo film è un po un po dolce un po amaro lucano beh di rispetto al mio primo film basilicata cost to cost che era una commedia più più leggera musicale picaresca no e in cui esaltava un po la basilicata questo film diciamo ovviamente è un film affettuoso nei confronti della mia terra del mio passato ma anche non troppo nemmeno piuttosto diciamo polemico se uno comunque sono tutte e due on the road no beh sì questo non the road è un po uno esterno e l'altro interno o interno sì sì quindi montagna questo un film sono troppo contento che ci sono Gerry e Antonio visto siamo riusciti a portare hanno fatto due interpretazioni ora è ovvio e ora hai sprecato tutti i complimenti per Gerry no però insomma volevo sfuggire alla retorica no quello che ha fatto un film e esalta i suoi attori però non posso farne a meno perché anche Antonio diciamo ha un ruolo determinante diciamo che è una scena che è una scena della scena della scena finale della scena della showdown no come si dice in gergo che era una scena lunga e le scene lunghe parlate nei film sono sempre un po' un rischio e correggimi se sbaglio Antonio e l'ha fatta magnificamente credo sia una delle scene più belle del film insomma guarda che uomo qui modesto anche bello e modesto abbiamo questa cosa diciamo anche conferma me l'Antonio Gerry tu sei un po' più meno lucano diciamo come formazione e noi lucani non sappiamo prendere i complimenti questa è un'altra questo te lo posso garantire anch'io perché sono nativo di Vietri di Potenza e anch'io quando mi fanno complimenti mi emozione poi danno non dico fastidio però siamo ci sminuiamo che bella macchina che hai ma che bella pettinatura però li sto perdendo ogni complimento corrisponde una uno sminuire e che c'è una sorta di pudore insomma della della propria felicità del proprio benessere lo sai che la regola dello spettacolo è che a sottrarre non si sbaglia mai beh anche quello diciamo tu vuoi dire che anche un po' voluta come cosa no l'understatement del lucano bene allora senti Rocco ci hai fatto un grandissimo regalo apparendo diciamo anche sullo schermo con il primo collegamento zoom di tutta la storia del cinema principe quindi ti facciamo un applauso anche perché ha funzionato beh sono molto contento e spero sia anche un buon auspicio avendo presentato lì tanti film di di successo che anche il nostro film il nostro piccolo film possa diciamo incontrare continuare ad incontrare come sta facendo il pubblico e e i consensi sono molto contento e soddisfatto per l'esito che sta avendo anche un po' superiore alle aspettative e noi ti ringraziamo moltissimo per averci dato questo film e per averci dato anche questo tuo tempo sei in giro con spettacoli teatrali quindi hai trovato il momento per parlare con noi e con il pubblico te lo farei vedere ma dici che non vedi comunque no facciamo sentire il pubblico con un applauso grazie grazie mille ora le hai visti anche no non riesco a vedere gli occhiali il problema sì mi sono messo gli occhiali per vedere di cosa pigiare per vedere lì peggiorare la situazione è meglio che non tocco niente se non scompaio va bene restiamo così braille li sento dai perfetto grazie moltissimo allora ti aspettiamo in carne e ossa la prossima volta buona visione grazie